Lo scorso settembre mia madre ha lasciato mio padre, la nostra casa in Italia, ed è venuta a stare da me, a Berlino. Dopo due mesi è tornata in Italia, ha chiesto la separazione. Tutto quel titolo che ti subisce ti fa diventare pure un'altra persona. Non è che schieppassi, ma è che ti metti una bella e passi. Ho iniziato a riprendere per fissare un momento di coraggio, per ammirazione e riconoscenza. Grazie a tutti.